E' corso ai tamponi nelle ultime due settimane, soprattutto da parte di giovanissimi che ancora non si vaccinano. Dall'entrata in vigore del Green Pass c'è stato un incremento nelle prenotazioni dei tamponi delle 48 ore da parte dei giovani per partecipare a cena o ad eventi, come conferma il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi, anche se al tempo stesso c'è stata una forte sensibilizzazione e accelerazione nei vaccini per i più giovani. I ragazzi sono molto sensibili, ma d'altronde sono il futuro della nostra società, sono il futuro della nazione, sono molto sensibili. Si sanno come fare e quello che devono fare e quindi vanno in farmacia, lì dove le farmacie hanno aderito, perché peraltro l'organizzazione è anche abbastanza dettagliata, particolareggiata e quindi lì dove le farmacie hanno aderito senza dubbio vanno e fanno i tamponi regolarmente per tutelarsi loro, tutelare gli altri e stare tranquilli e vivere una estate serena. La vaccinazione va fatta, ma non lo dice il presidente di Assofarm Venanzio, la comunità scientifica. La comunità scientifica è tutta la comunità scientifica, al di là di tutte le varie varianti che possono esserci di giudizio o di scienza, però il concetto fondamentale è quello di vaccinarsi assolutamente. I tamponi, come è noto, ora hanno un prezzo più contenuto e le farmacie sono in prima linea e stanno confermando il loro ruolo essenziale anche per quel che riguarda i vaccini. Moltissimi hanno aderito nelle quattro province, ma l'adesione è graduale perché, come si sa, i farmacisti vaccinatori devono essere formati. Al momento in Abruzzo sono 329 le farmacie che hanno aderito al protocollo vaccini. Inoltre in farmacia esibendo la tessera sanitaria si può avere anche stampato il Green Pass gratuitamente. L'aspetto che però non va è che si è ancora in una situazione di provvisorietà. A breve scadranno gli accordi con le farmacie, quando invece su queste si dovrebbe puntare, perché man mano gli hub vaccinali scompariranno, è pure paradossale che si possa fare il vaccino anti-covid e non l'anti-influenzale. Siamo in termini di provvisori, fino al 30 settembre i tamponi e quindi fino al 31 dicembre il farmacista può essere vaccinatore. E allora gli sforzi che le farmacie fanno è come gli investimenti, perché di certo il farmacista ha anche altre cose da fare sicuramente, deve fare altre cose. Nel momento in cui fa questo tipo di attività professionale, prevista dalle funzioni professionali, deve avere anche una sicurezza. E la sicurezza deve essere data da una funzione strutturale di una farmacia, dei servizi che possa procedere con le vaccinazioni, con tutte le vaccinazioni, così come si fanno in altri paesi europei a partire da quelli anti-influenzali, per esempio, con le vaccinazioni anti-covid e quindi con i tamponi.